Recensione del settimo episodio della seconda stagione di Rings of Power, il miglior episodio della serie, di tutta la serie fino a questo momento, veramente impareggiabile a livello di interpretazioni, a livello di sceneggiatura, di accompagnamento musicale, fotografia, di regia, di effetti speciali, veramente questo episodio è stato perfetto. Penso che non posso dire praticamente nulla di male su questo episodio, al di fuori di una cosa veramente molto piccola, che però non è un problema del singolo episodio, perché poi essenzialmente vanno a fixare anche questo errore, però il tutto non funziona per il semplice fatto che è un problema di una gestione di un personaggio che va avanti da tutta la seconda stagione, quindi non è appunto un problema di questo singolo episodio. Detto questo però mi è piaciuto tantissimo appunto questo episodio, per quale motivo? Perché è coerente con quello che ti hanno fatto vedere prima, con quello che cerca di narrarti, con quello che appunto ti aspetteresti da un momento narrativo così tanto importante, come appunto la battaglia per Eregion, questa forge di Celebrimbor dove sono stati forgiati i vari anelli. E il bello è che la puntata comincia appunto con queste scenette con Celebrimbor dove lui sta forgiando questi anelli e si conclude, poi lo vedrai anche a breve, con un anello che è stato forgiato appunto da Celebrimbor. Il tutto insomma va ad essere un po' a cerchio, diciamolo un pochino così. Tra l'altro ci sono dei momenti all'interno di questa puntata dove ti fanno vedere anche il lato un pochino più soft, più dolce di Annatar barra Sauron, che non lo so, di tanto in tanto io penso che magari questo personaggio, non dico che può redimersi, ma può denomale fare delle scelte che non sono a tutti gli effetti da cattivo, anche se insomma alla fine il personaggio quello è, però è bello che gli danno più sfaccettature, no? Quando tu vedi Sauron nei film di Peter Jackson il personaggio è assolutamente negativo. Mentre invece qua, dato che è appunto un ingannatore, che sta ingannando Celebrimbor e tutte le altre popolazioni della Terra di Mezzo, è bello che il personaggio sia un pochino più grigio, capito? Quindi mi è piaciuta anche questa parte, poi c'è tutta la sedia appunto a Eregion con i vari orchi comandati da Adar, e insomma è gestita veramente molto bene questa parte perché tra l'altro, non lo so, chiamali, come ti posso dire, effetti post-traumatici di Game of Thrones ottava stagione, per quale motivo? Perché ogni volta che io mi vedo una serie fantasy e vedo che c'è un attacco, un assedio verso un castello o qualcosina del genere, comincio a pensare appunto all'ottava stagione di Game of Thrones, quando c'è stata la battaglia appunto tra i vivi e i morti. E appunto ogni volta che vedo un qualcosa di questo tipo, la mia mente va lì e mi chiedo, ma questa cosa ha senso? Cioè è una cosa che potrebbe accadere realisticamente? Ecco, nella ottava stagione di Game of Thrones assolutamente no, è una cosa non inverosimile, proprio senza senso. Mentre invece da quello che si può vedere appunto all'interno di questa puntata, il tutto è assolutamente strategico e assolutamente gestito bene. Cioè vedo molte persone che parlano malissimo di questa serie, magari hanno anche ragione sotto alcuni punti di vista per quanto riguarda la lore, il world billing di Tolkien, perché hanno fatto dei cambiamenti, tutto quello che vuoi. Però poi la qualità delle puntate c'è, o quantomeno della sceneggiatura c'è. Ci sono tanti tempi morti? Assolutamente sì. Ci sono dei personaggi che ormai sono rindondanti come il nostro caro Aaron Deer, e infatti è lui la parte negativa di questa puntata, però poi al di fuori di questo certo alcune vicissitudini sono un pochino telefonate, però poi se vai ad analizzare il tutto appunto in questi passaggi funziona benissimo, anche perché qua ti fanno vedere, dato che Eregion è protetta da un fiume, e quindi le truppe di Adar non possono attaccare direttamente la città al di fuori di un singolo ponte, che insomma se vai ad attaccare da lì vai bene o male a trovarti in difficoltà, no, per proteggere appunto gli orchi che dovrebbero assalire la città, beh che cosa decidono di fare? Di far cadere delle rocci giganti per bloccare il fiume, e quindi non c'è più acqua che scorre, e quindi possono attaccare la città. Veramente molto sensato, assolutamente sì, e poi oltre a questo c'è tutto un passaggio con i varinani, perché ti fanno capire che finalmente appunto hanno capito che il loro re Durin Padre non è così tanto affidabile, che ormai è stato corrotto dall'anello, però hanno tagliato questa parte narrativa penso sul più bello, perché certo magari volevano dare un po' di enfasi narrativa, ci arriveremo su questo di far vedere diversi screenshot abbastanza tematici, anche con riferimenti ai film, però appunto dovevano arrivare al punto di rottura, se così lo vogliamo chiamare, con Durin Figlio che doveva in questo caso ribellarsi contro il padre, quindi spodestarlo, però non te lo hanno fatto vedere. Tra l'altro molto bella anche qua la reunion appunto tra Erond e Durin Figlio, molto molto carina, richiama anche questa al Signore degli Annelli, gli piace appunto agli sceneggiatori mettere dei riferimenti in ogni dove ecco. Però ritornando appunto a Erion ci sono delle bellissime inquadrature, bellissime scelte fotografiche per farti vedere questo assedio, ho voluto prendere qualche screenshot, messo un pochino così, ma giusto per darti un'idea della grandiosità della scena, ecco, chiamiamola un pochino così, perché non ci vuole niente a mettere un paio di soldatini, CGI e poi mi fai attaccare appunto una città e si vede tutto piccolino, è quello che è, non hanno fatto una cosa di questo tipo. Cioè come puoi vedere appunto tramite questi screenshot, si vedono centinaia se non migliaia di orche, quindi appunto ti fanno capire che questo esercito di Hadar è veramente molto numeroso e le difese della città sono alquanto minime. Tra l'altro in tutto ciò ti fanno anche vedere come Celebrimbor finalmente riesce appunto a liberarsi o quasi da questa prigione mentale di Annatar ed il tutto è assolutamente interessante per come te lo fanno vedere, come il personaggio va a capire appunto che è stato soggiogato da questa entità malefica e insomma ti fanno anche vedere questa scenetta dove Sauron mostra che il suo sangue è nero come la peggio come appunto ti vanno a dire anche all'interno dei dialoghi. Un pochino per dirti, guarda, questa è un'entità appunto molto particolare, tra l'altro poi questo ritornerà dopo nella trama in diversi altri contesti, però ecco una scelta che mi ha colpito è quella di far morire questo personaggio femminile, questo fabbro appunto di Celebrimbor che si era legata a Sauron e che lui stesso aveva detto in uno degli screenshot che ti ho fatto vedere all'inizio che sarebbe stata ricompensata per questa sua fedeltà nei confronti di Sauron. Beh, cavoli, ingannatore 100%, mamma mia che brutta fine, cioè mi è dispiaciuto un sacco anche perché era un personaggio molto positivo che poteva stare dalla parte di Celebrimbor, alla fine non ha aiutato e è stata utilizzata appunto per enfatizzare ancora di più come Sauron è al controllo appunto di questa città e tutto il resto. Tra l'altro poi arriviamo al momento un pochino più da film, se così lo vogliamo definire, perché finalmente arrivano gli Elfi, incredibilmente si sono decisi a voler difendere questa città, appunto questa forgia di Celebrimbor con diverse scenette riprese ovviamente dai film di Peter Jackson, tra l'altro il fatto che ti fanno vedere Enron con l'elmetto e anche Kil'Galad, madonna mia, finalmente! Io mi aspettavo di vedere questo personaggio un pochino più in azione, no? Beh, ce l'hanno fatto vedere solamente adesso, con alcune scenette di combattimento veramente molto belle, però vedi, il personaggio ce l'hai, fagli fare qualcosina di tanto in tanto, no? Non lo so, molte persone volevano appunto vedere Kil'Galad in azione e finalmente insomma siamo stati ricompensati da questa puntata. Poi tra l'altro c'è tutto questo passaggio dove ti fanno vedere la cavalcata degli Elfi verso gli Orchi che è fatta e gestita da Dio, perché c'è un simbolismo, perché c'è un doppio significato, c'è una regia, una fotografia, anche un accompagnamento musicale che veramente, guarda, se vedo qualcuno che si lamenta di questa specifica scena, queste persone non hanno capito nulla o quantomeno non sono in grado di capire la bellezza appunto di questa scenetta. Innanzitutto perché riprende i film, quindi già da lì appunto hai una buona ispirazione, ma anche perché ti fanno vedere, tramite delle scelte molto particolari di camera, come appunto i vari Elfi stanno cavalcando verso gli Orchi. Per esempio questa è una camera in movimento che sta seguendo appunto i cavalli, veramente fatta molto bene, non so se questa sia fatta tutta in CGI, probabilmente forse qualche cavallo l'hanno aggiunto, questo non lo so, però molto ma molto bella e tra l'altro ti fanno vedere anche gli Orchi che stanno qui appunto ad aspettare l'assalto dei vari Elfi e il tutto è accompagnato da questa scelta registrica che secondo me è giusto enfatizzare. Per quale motivo? Perché ti fanno vedere diverse volte all'interno della puntata che quando gli Orchi stanno attaccando non c'è la luce del sole, proprio perché loro rappresentano l'oscurità, no? Qualcosina di questo tipo. E quindi quando arrivano gli Elfi in questa giornata un pochino uggiosa o quantomeno appunto nuvolosa, ti fanno vedere che con l'avanzata degli Elfi arriva anche questa luce solare, un pochino per rappresentare appunto la luce, insomma il bene, tutte queste cosine qua. Ed è accompagnato questo, verso tutta questa cavalcata degli Elfi, verso gli Orchi appunto, che mamma mia c'è veramente ma veramente gestita e fatta benissimo questa scena, che poi tra l'altro si conclude perché Adar mostra che ha con sé la signorina Galadriel come prigioniere e quindi ti fanno vedere appunto che non c'è questo scontro subito appunto tra Elfi e Orchi. Tra l'altro poi c'è tutto un passaggio dove cercano di negoziare, insomma di fare un pochino discussione appunto per allearsi contro i Region o quantomeno contro Sauron, ma non riescono ad arrivare appunto ad una conclusione. e c'è un passaggio dove Elrond va a baciare Galadriel che non lo so, io quando l'ho visto mi ha fatto scassare da ridere perché tecnicamente potrebbe anche starci forse, anche se nella lore di Tolkien la signorina Galadriel diciamo che finirà con un altro uomo, ecco diciamo. Anzi, neanche un uomo, ma elfo appunto. Però è stato particolare perché ha avuto un'enfasi musicale, questo bacio d'addio quasi tra i due personaggi che non lo so, mi ha colpito, ecco. Detto questo torniamo invece a parlare dei varinani perché qua ti fanno vedere che Durin padre sta per fare qualcosina di brutto perché piuttosto che starà ad aspettare che i varinani di casa Doom finiscono per aiutare gli elfi all'interno di questa battaglia per Eregion, appunto Durin padre comincia ad attaccare i suoi stessi uomini o quanto meno i suoi stessi nani e comincia a rascavare per liberare questa entità malefica che c'è all'interno della montagna. Il tutto però si conclude, come ti ho già anticipato prima, con queste scenette appunto che puoi vedere qua. Cioè è vero che Durin figlio riesce bene o male ad aizzare la folla, insomma a portare dalla sua parte tutti i varinani che ci sono all'interno di questa montagna. Però prima di farti vedere l'ultimo passaggio di Durin ti faccio vedere anche questa scena che secondo me va ad enfatizzare la parte più debola di questa puntata perché se da una parte non mi è piaciuto il fatto che appunto non hanno dato una conclusione vera e propria alla trama di Durin, quello lo posso accettare perché c'è un passaggio dove c'è una specie di cliffhanger, no? Mentre invece questo momento nel quale Galadriel riesce a salvarsi anche grazie all'aiuto di Erondir non mi è piaciuto questo passaggio perché la gestione di questo personaggio all'interno della seconda stagione è stata assolutamente altalenante. Non che nella prima stagione era chissà che cosa, però almeno aveva un ruolo un pochino più attivo. Quindi il fatto di avere un personaggio un pochino, non tengo fuori dagli schemi, ma proprio fuori dalla trama principale o dagli eventi che sbuca fuori dal nulla non lo so, non mi è piaciuto tantissimo. Però anche qua, per fortuna, sono riusciti a dargli un finale quanto meno tematico appunto con quello che è stato l'escursus del personaggio. Ma su questo ci arriviamo, ti faccio vedere appunto l'ultimo screenshot di Durin che va a concludere la sua trama per questa puntata e che è abbastanza tematico con quello che ti farò vedere a breve. Tienetelo bene a mente perché appunto qua Durin stava per cercare di raggruppare appunto le sue forze militari per aiutare gli elfi, però poi è stato fermato da Durin padre che stava attaccando la popolazione. Ok, questo è il contesto. Però noi andiamo avanti. Ti faccio vedere qualche altro screenshot con il nostro caro Annatar che sta ancora a solvegliare Celebrimbor che sta per finire appunto gli anelli del potere e insomma riesce un pochino a girare alla frittata. Cioè questo che cosa significa? Che dato che lui è il grande ingannatore dice che in realtà non è stato lui appunto a soggiocare Celebrimbor ma è stato Celebrimbor appunto ad avere questa ossessione per gli anelli che lo ha portato a fare scelte piuttosto problematiche. Che il tutto è anche tecnicamente vero ma insomma questi ultimi anelli li sta creando perché tu lo hai costretto. Quindi anche qua Celebrimbor che tra l'altro permettimi voglio giusto empatizzare anche questo l'attore di Celebrimbor mamma mia alziamo le mani eh un'interpretazione da Dio un personaggio scritto in questa puntata e in poche altre veramente molto ma molto bene c'è quello che è stato un personaggio che è arrivato solamente nel finale della prima stagione gli hanno dato un'enfasi veramente molto molto bella in questa seconda stagione e il ruolo che ha avuto in quest'ultima puntata è stato veramente molto tragico quindi mi è piaciuto un sacco anche perché ti fanno vedere che praticamente all'interno di questa scenetta non solo va appunto a rispondere ad Anatar dicendo guarda che stai ingannando te stesso in questo caso perché non mi stai dicendo la verità ma decide di fare un sacrificio appunto di essenzialmente tagliarsi il pollice per liberarsi e quindi non dover creare questi anelli. Tra l'altro prima di fare tutto ciò ho provato anche a distruggere questi anelli buttandoli nel fuoco ma non ci è riuscito giusto per farti capire anche come questi anelli sono veramente molto potenti e poi insomma prima di farti vedere il finale appunto di questo personaggio ti faccio vedere che è riuscito appunto a rincontrare Galadriel che tra l'altro pure questa scenetta mamma mia mi colpiscono poche cose ma vedere questo personaggio che ha subito così tanto questa prigione mentale di Sauron non lo so è veramente molto tragico come momento così come anche la reazione di Galadriel che ha dovuto accettare di dover portare fuori dalla città gli anelli e quindi ha costretto tra virgolette il povero Kellebrimbor anche se poi è stata una sua scelta a ritornare da Sauron per cercare di farle guadagnare un po' di tempo e quindi c'è tutta questa parte un pochino finale della battaglia di Eregion dove vediamo innanzitutto questo sacrificio di questo personaggio femminile che è un elfo questo molto particolare mi ha ricordato Boromir qualcosina del genere però molto molto bello questo passaggio assolutamente sì e poi come se questo non bastasse ti faccio vedere che Sauron all'inizio era stato un pochino messo alle strette da questi vari soldati elfici ma insomma lui ha grandi poteri e quindi riesce ad avere la meglio e questa è l'ultima parte dove ti fanno vedere Kellebrimbor che molto probabilmente insomma verrà ucciso appunto da Sauron però ti ripeto questo personaggio veramente è stato gestito molto ma molto bene in questa puntata che possiamo dedicare bene o male a lui perché insomma è quello che ha tutto lo spot in assoluto e poi andiamo avanti ti faccio vedere altri momenti di questa battaglia che è molto tematica assolutamente sì perché non è una di quelle battaglie che si conclude subito no? non è che tu hai una fazione ne arriva un'altra c'è il combattimento che dura poco e finisce là no? è una battaglia che va avanti per molte ore e quindi quando ti fanno vedere questo orco che parla con Adar e gli fa presente che guarda stanno morendo un bel po' di orchi e noi volevamo appunto cercare di riuscire a sopravvivere fare una guerra che ti spinge appunto ad avere un bel po' di di morti non è la soluzione migliore quindi il senso stesso di farti vedere questa scena e di farti capire come c'è un peso all'interno di questa battaglia sia da parte degli elfi sia da parte appunto dei vari orchi quindi veramente molto interessante poi c'è anche questo nemico gigante che ti fanno vedere appunto in questo momento che tra l'altro va ad introdurre il fatto che Gil-Galat ritorna nella nella trama o quanto meno te lo fanno vedere in azione quindi ok va bene e poi oltre a questo arriviamo alla parte finale di questo episodio perché ti fanno vedere che c'è un'ultima avanzata di questi orchi cappeggiati direttamente da Adar che decide appunto di arrivare in battaglia e che cosa accade che praticamente Aaron qua comincia a capire che non c'è modo di riuscire a vincere questa battaglia perché gli elfi sono ormai ridotti ad un numero veramente molto esiguo e quindi chi può salvarli è solamente Durin che dovrebbe arrivare all'alba e infatti siamo all'alba e si vede questo cavallo che arriva un pochino come il cavallino di Gandalf te lo ricordi il film insomma le due tori quindi molto tematico anche questo che però che cosa va a dire questo personaggio a cavallo che Durin non arriverà perché appunto i nani devono risolvere altre paccende all'interno della montagna quindi c'è un'ultima battaglia veramente molto breve con anche il signorino Gilgala di Nazione con scenette molto belle dove gli orchi riescono ad avere la meglio appunto sugli elfi riescono a intrufolarsi nella città e prima di tutto ciò ci sono alcuni passaggi veramente molto belli questo che va bene o male a concludere la trama di Herondir se viene a tutti gli effetti ucciso perché a questo confronto con Adar veramente anche questo gestito molto bene dal punto di vista scenografico che va a redimere un pochino il personaggio per quello che è stato il suo utilizzo in questa seconda stagione probabilmente sì anche se è un peccato far morire un personaggio che non ha avuto chissà quale tipo di contributo all'entrata della trama e poi oltre a questo c'è tutto un momento con Herod che ormai è quasi del tutto come ti posso dire convinto che non riusciranno a sopravvivere cerca di attaccare Adar ma viene colpito anche lui e quindi l'ultima scenetta di questa puntata è appunto il nostro signorino Adar che sorride mentre ha con sé l'anello di Galadriel e quindi grazie a quest'anello dovrebbe essere in grado appunto di riuscire a sconfiggere Sauron non sarà così però insomma questo è appunto il finale di questa puntata una puntata assolutamente meravigliosa non ti dico che gli voglio dare un 10 su 10 ma ci sono vicino e spero vivamente che la prossima puntata che dovrebbe essere anche l'ultima darà un bel teaser per la terza stagione o quantomeno ti faranno vedere qualcos'altro che sia veramente molto interessante però detto questo gente queste erano le mie opinioni per quanto riguarda questa puntata di Rings of Power fatemi sapere voi che cosa ne pensate e cavoli finalmente siamo arrivati a un punto della trama un punto della serie dove una puntata mi fa dire cazzarola che bella puntata di Rings of Power di Rings of Power di Rings of Power Grazie per la visione!